Determinati a mille, sempre sul pezzo, concentrati su ogni singolo punto. Semplicemente perfetti, insomma. Migliore sordio nel nuovo anno non poteva proprio esserci per la Palavolo Andria, che batte 3-0 al Palaspor di Corso Germania l'Olimpia-Galatina nel recupero dell'undicesimo turno del campionato nazionale di Serie B maschile, non disputato sabato scorso per colpa del maltempo. La matricola bianca-azzurra colleziona così la terza vittoria consecutiva la quinta affermazione nelle ultime cinque esibizioni ufficiali. Le difficoltà di inizio stagione, determinate da un inevitabile fisiologico adattamento alla nuova categoria, sembrano ormai un lontanissimo ricordo. Il sestetto, allenato da Giuliano Lozowi, ora sa giocare di squadra e in grado di mettere i singoli nelle condizioni migliori per portare benefici al collettivo. I padroni di casa partono con il giusto piglio e si aggiudicano il parziale d'apertura con il punteggio di 25 a 22. Gli andriesi difendono bene e sanno scegliere le giuste soluzioni. In attacco Bernardi è impeccabile. In cabina di regia, Fiorillo ed Andriano, autori rispettivamente di 19 e 11 punti, non fanno sconti in attacco al Galatina. Il secondo set di conseguenza lo vince. Questa volta con il punteggio di 25 a 22 ancora la pallavolo Andrea. L'ipoteca sulla vittoria c'è, l'opera poi viene completata nel terzo parziale quando i biancazzurri annullano gli ultimi tentativi dei Salentini di riaprire la partita e chiudono i conti in maniera definitiva con il punteggio di 25 a 22. Game set match dunque. Gli andriesi salgono a quota 12 punti in classifica e riducono da 5 a 2 le lunghezze di ritardo proprio dal Galatina. Il cammino verso la conquista della salvezza in Serie B in buona sostanza procede in maniera spedita. Ora i biancazzurri sono attesi ad una vera e propria prova del 9 per attestare la reale consistenza. Il programma della dodicesima giornata, penultimo atto del girone di ritorno, prevede per domenica prossima infatti l'impegno in trasferta contro il New Real Gioia, capolista virtuale del girone H.